salve a tutti gli amici di media boarding e welcome to our friends around the world venite con noi perché quest'anno abbiamo deciso di farvi gli auguri di natale in modo un po particolare vi portiamo in giro in tutte le città più belle d'europa e del mondo intero e cominciamo naturalmente da parigi dalla villumière che è bellissima sempre tutto l'anno e per natale ancora più affascinante scintillante da parigi a londra continuiamo il giro tra alcune delle più belle città del mondo in occasione delle festività natalizie nella capitale britannica abbiamo scelto un luogo davvero particolare ovvero san christopher place pensate è una via molto piccola ma probabilmente anche una delle prime vie del mondo dedicate allo shopping un vicoletto in cui si trova un po di tutto come potete vedere e negozi tipici ristoranti e pensate siamo a pochissimi passi da oxford street che come molti sanno è la via dello shopping più importante le luci di natale sono bellissime ogni anno cambiano e la città è ovviamente molto famosa proprio per questo aspetto e in questo periodo dell'anno ecco dopo le più belle capitali europee siamo atterrati qui in toscana nella nostra magnifica e adorabile toscana abbiamo visitato il mercatino di natale di firenze che secondo la classifica dalle acnn pensate è tra i primi cinque mercati di natale del mondo e ora siamo qui a pisa nella nostra piccola pisa la città della torre pendente da qui vogliamo farvi i nostri auguri di buon natale e di buon 2019 con questo è tutto ricordatevi di visitare il nostro sito di riferimento www.inmediaboarding.it e di fare delle escursioni sul nostro canale youtube sempre in media boarding o sulle nostre pagine facebook o instagram sempre sotto il nome di media boarding con questo è davvero tutto e ancora auguri ciao a tutti alla prossima ciao a tutti